Gentile pubblico, Estoria 2022, diciottesimo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Estoria, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Curizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Curizia, della Camera di Commercio Venezia Giulia, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, cui vi invitiamo ad aderire. L'arredo del palco è gentilmente concesso dalla Moroso di Udine, che ringraziamo per la collaborazione. Sta per iniziare l'incontro intitolato La rottura istituzionale rispetto alla monarchia e al liberalismo. Intervengono Frédéric Lamoal e Andrea Ungari, coordina Matteo Sacchi. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Ricordiamo che al termine degli incontri sarà possibile acquistare i libri degli autori presso lo spazio autori e incontrare gli ospiti presso lo stand firmacopie. Tra un incontro e l'altro, per motivi tecnici e di sicurezza, invitiamo il pubblico a lasciare la tenda. Buona storia a tutti! Buongiorno, siamo lieti che siate venuti a questa nostra chiacchierata anche sera di mattina presto. e introduco, se servisse per un attimo, i due relatori, che sono due tra i massimi specialisti disponibili sui temi che andiamo ad affrontare oggi. abbiamo Frédéric Lamoal e credo che il suo libro sulla storia del fascismo non abbia bisogno di presentazioni. Ha dato un'impostazione assolutamente nuova al tema, di cui magari ci capiterà anche di discutere questa mattina. e il professor Ungari dirige la fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice e credo che questo basti a spiegare perché sono qui. Il tema che andiamo ad affrontare è un tema complesso e importante, perché l'arrivo al potere del fascismo, che normalmente si fa coincidere con la marcia su Roma, ha un suo pre-importante. Tutti si va sempre a guardare la marcia, ma prima di arrivare alla marcia succedono delle cose dentro questi governi liberali italiani che mostrano la corda, che iniziano a diventare fragili, non è un fenomeno solo italiano. La prima guerra mondiale è un grande scossone degli equilibri, i paesi vengono militarizzati, se sono costretti a portare avanti una serie di politiche, la gran parte della popolazione maschile va al fronte e torna indietro, che non è uguale a prima, ha delle aspettative diverse. che il sistema liberale non riesce a far rientrare nelle sue precedenti metodiche. In Italia questa situazione è più marcata rispetto ad altri paesi, è più marcata nonostante l'Italia sia stato un paese vincitore della guerra, la guerra è subito percepita come una vittoria mutilata e il meccanismo che ha consentito alla monarchia e al sistema liberale di reggere il paese e di militarizzarlo, portandolo a uno sforzo, al limite delle capacità dell'apparato sia produttivo che militare italiana, va in crisi. E ci facciamo un po' raccontare il perché. Faccio solo un'altra brevissima premessa prima di passare la parola a chi ne sa più di me. Alcuni segni di logorio in Italia si erano visti anche precedentemente alla guerra. Già i moti del 98 a Milano erano stati un segno particolare, c'era stata in quel caso già un avvicinamento all'idea di un governo militare, il governo Pellù, e poi al re si spara. Questo pre non può essere dimenticato perché l'Italia arriva già al conflitto con alcuni segni del fatto che alcuni meccanismi non funzionano, che alcuni problemi sono rimasti gravemente irrisolti. La guerra e poi l'avvento di tutta una serie di movimenti, tra cui quello che poi diventerà predominante, il fascismo, ma non è l'unico, danno il colpo di grazia a questo sistema. Però adesso sulla partenza del cavallo del sistema liberale passerei la parola. Facciamo partire il professor Ungari? Va bene. Va bene. Grazie. Buonasera a tutti. Controllo l'orario per evitare di sforare. Senz'altro quello che stava dicendo Matteo Sacchi è senz'altro vero. I sintomi di una difficoltà del sistema politico deliberale sono già presenti nella fase precedente, la prima guerra mondiale. La crisi di fine secolo è senz'altro importante. In realtà poi l'avvento di Giuritti risolve alcune problematiche, perché comunque in questa contesa tra l'ispirazione sonniniana di un ritorno all'interpretazione letterale dello Statuto, quindi una visione diciamo un po' più autoritaria del liberalismo, invece una visione progressista del liberalismo, quella più inclusiva, che era quella giurittiana, prevale proprio nel cavallo del 1900. Devo dire che prevale anche perché cambia il sovrano. Cioè la morte di Umberto I e l'ascesa al trono di Vittorio Emanuele III, sul quale il professor Lemolla ha scritto una bella monografia, in realtà segna uno stacco, perché se noi andiamo a vedere tutta i primi 14 anni, facciamo dal 1900 fino al 1914, la monarchia di Vittorio Emanuele III è una monarchia che all'epoca Mario Missiroli definì la monarchia socialista, proprio perché in realtà il sovrano appoggia molto la politica giurittiana di dialogo sia con le componenti riformiste del Partito Socialista, sia con le componenti moderate del mondo cattolico, quindi cercando di tagliare le ali estreme e di rafforzare la classe dirigente liberale, che era stato uno dei problemi di fondo poi della classe dirigente liberale dal 70, proprio per il carattere elitario che aveva avuto il nostro risorgimento, elitario e quindi minoritario che aveva avuto il nostro risorgimento, e quindi tutto lo sforzo che la classe dirigente liberale compie in una riflessione a volte quasi ossessiva del pericolo dei rossi e dei neri, quindi dei socialisti e dei cattolici, appunto all'ombra di questa ossessione si cerca progressivamente nei governi della sinistra storica, prima con De Predici e poi con Crispi, anche se in modalità diverse, di allargare le basi dello Stato. Quindi in qualche maniera, tant'è che ricordo che proprio sotto Giolitti si assiste all'approvazione della legge elettorale che presiderà l'elezione del 1913, che instaura quasi il suffraggio universale maschile, per il quale dovremmo attendere però definitivamente il 1918. Se noi dovessimo andare a vedere però dei momenti in cui si avverte questa crisi, questo perdurare di alcuni elementi di criticità all'interno anche del periodo giurittiano, potremmo mettere in evidenza lo sciopero generale del 1904, che ha dei riflessi nella nascita delle correnti, per esempio, nazionaliste all'interno del Paese, perché se dovessimo dare una data della nascita delle correnti nazionaliste, che molto risentono poi dell'esempio francese, dell'Action Francaise de Morra, è la data dopo il 1904, quando cominciano a fiorire tutta una serie di riviste. E un altro elemento che in qualche maniera incrina, e questo in maniera ancora più forte, il sistema politico giurittiano è la guerra di Libia. Cioè è là il momento in cui il sistema comincia a non funzionare più, perché si era sempre basato sul dialogo, e come vedete è una guerra che determina questa crisi, perché poi le guerre a volte bloccano dei processi, ma ne accelerano degli altri. Le guerre, come vediamo in questi ultimi mesi, hanno degli effetti non sempre controllabili. Ebbene, la guerra di Libia in realtà spacca il sistema politico italiano, cioè spacca i partiti al proprio interno, tra coloro che erano favoribili all'impresa e coloro che ne lo erano. Tutti i partiti risentono di questa spaccatura, partiti nel senso dell'Italia liberale, quindi insomma diciamo gruppi politici, correnti politiche, dai radicali ai repubblicani, e nel campo socialista in realtà la spaccatura è più forte, perché in realtà dopo la guerra di Libia il partito socialista passa su posizioni massimaliste, su posizioni rivoluzionarie, con la guida di Ferri, con la guida dello stesso Mussolini, insomma Reggio Emilia diventa il direttore dell'Avanti, il congresso del 1912, e quindi in realtà il sistema giurettiano comincia a non funzionare più, proprio perché il dialogo con le componenti riformiste del PSI vengono meno, e quindi il governo si sposta su posizioni più conservatrici, perché l'apporto dell'altra componente dei cattolici, e in parte dei nazionalisti, diventa più determinante. Ma questa è una prima spaccatura dell'edificio politico dell'Italia liberale, di una radicalizzazione dello scontro politico, fra l'altro dove comincia a entrare nel dibattito politico dei termini nuovi, per cui si introduce il tema che esploderà poi a partire dal 1914, quello del nemico, ossia del rappresentante dell'antinazione, per cui non si è più di fronte ad un avversario politico, ma si è di fronte, questo per quanto riguarda coloro che erano avversi all'impresa libica, a degli elementi che venivano giudicati antinazionali. Questo già si intravede, per esempio, sulle pagine del giornale dei nazionalisti, che era l'idea nazionale. E tenete presente che tutto questo preannuncia la spaccatura ancora più profonda del sistema politico liberale, che sarà determinata dal dibattito del 14-15 tra neutralisti e interventisti. Quello sì spacca l'edificio liberale, lo spacca proprio al proprio interno, lo spacca soprattutto in un settore importante, che è quello della classe dirigente liberale, tra la componente maggioritaria, che era quella giuridiana, che era a favore della neutralità del Paese, e la componente minoritaria che si riconosceva nel progetto politico, potremmo definire, della destra nazionale, di Salandra e di Sonnino, che comunque alla fine trascina. Insomma, alla fine porta il Paese in guerra con una decisione che è presa dal Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri e il Sovrano. Ora, tenete presente che questa scelta non è che è così inusuale, non è che è questa come al solito, dobbiamo pensare alla eccezionalità italiana. In tutti gli Stati europei della Prima Guerra Mondiale la decisione di entrare in guerra è una decisione che è ristretta in pochissime persone. Anche nella liberale Inghilterra, non è che le decisioni erano prese in maniera così larga. Ricordo a riguardo che durante la Prima Guerra Mondiale c'è addirittura la creazione del War Cabinet, che non è che include tutti i ministri del gabinetto inglese, ma solamente alcuni che erano decisivi. Quindi c'è un accentramento delle decisioni di entrare in guerra che non è solamente quella italiana. Però questa spaccatura è una spaccatura che non si ricuce più ed è una spaccatura che poi si ripercuote anche sul mondo socialista. Per cui da quel momento in poi tutto il campo socialista viene considerato, i socialisti, la parte maggioritaria dei socialisti, non la piccola componente riformista che era uscita dal partito nel 1912, ma la parte maggioritaria del PSI che aveva preso una posizione neutralista, viene considerata, to court, come un partito antinazionale. Quindi un partito che ricade in una sorta di campo di delegittimazione politica proprio perché non ha aderito alla guerra che è considerata a torto, a ragione, non lascio ad altri giudizio, che però viene considerata dalla classe dirigente dell'epoca come il completamento del risorgimento italiano. Molti ne hanno parlato, ne hanno scritto, la quarta guerra del risorgimento. È chiaro che non è solo quello, la prima guerra mondiale per la classe dirigente liberale, c'è anche un progetto, il professor Lemmo Alzi è occupato anche di questo, in un suo saggio, c'è anche quel progetto di una più grande Italia che guarda verso i Balcani, che ha una proiezione verso l'Adriadio, quindi non è solamente Trento e Trieste, ma insomma è Adalmazia, è Smirne, cioè quindi i possedimenti rettifiche, i possedimenti coloniali, quindi è chiaro che c'è anche una visione un po' diciamo tra virgolette imperialista, però è chiaro che soprattutto è una guerra nazionale e quindi il non aderire a una guerra nazionale fa sì che automaticamente ci si colloca dall'altra parte e tutte queste spaccature che si consumano dal 14 al 15 vengono amplificate dalla guerra, perché la guerra su questo è chiaro che irrigidisce gli schemi, non solo attraverso la censura, ma nascono per esempio tutta una serie di leghe, la lega anti-bolcevica italiana, tutta una serie di leghe che in qualche maniera tendono, la lega anti-tedesca, tendono a tenere sotto controllo e a militarizzare il fronte interno, sia in funzione appunto anti-tedesca, anti-austriaca, ma anche in funzione antisocialista. Quindi poi la situazione che noi ci troviamo nel 1919, al di là di tutte le difficoltà di cui parleremo, sono le difficoltà politiche, diplomatiche, sociali e anche militari che si tipano nel 1919, c'è una società politica che è frammentata al proprio interno, per cui c'è una componente socialista che è delegittimata, tant'è che nonostante i 156 deputati che i socialisti ottengono all'elezione del 1919 non formeranno nessun governo, cioè sono delegittimati a governare, guardate, né più né meno di quello che avviene a partire dal 1947 in Italia con la Convenzione di Scrutendum nei confronti del Partito Comunista Italiano. La situazione è analoga, fermo restando che il livello ideologico dello scontro è in parte diverso, ma funziona nella stessa maniera. Il PSI sta nel campo della delegittimazione politica, sta in quel cono d'ombra. Dall'altra parte la frattura all'interno del campo liberale perdura, perché quelle fratture del 14 e 15 durano anche dopo. Quindi non si ricompone quell'unità, e lo si vede nelle elezioni del 1919, tra coloro che avevano sposato quest'opzione salandrina-sonnignana, Sidney Sonnino era stato il ministro degli esteri durante la guerra, salandra presidente del Consiglio fino al 1916, però quell'opzione tra destri e sinistri all'interno, semplifichiamola così, all'interno della classe dirigente liberale non si recupera più, non rifunziona più il sistema. E su tutto questo non funziona anche perché nel 19 il governo Nitti, che sale al potere nell'estate dopo la cattura di Vittorio Emanuele Orlando per le questioni inerenti alla conferenza di pace, in realtà l'approvazione di una legge elettorale che stabilisce il suffragio universale maschile, sì, in questo momento, e l'avvento della società di massa in tutta Europa, che era stata favorita dalla Prima Guerra Mondiale, fa sì che la classe dirigente liberale non riesce più a controllare il sistema politico con le misure con le quali aveva controllato da sempre il sistema politico dell'Italia liberale. Chiudo e lascio la parola dal professore Lemoal. Ossia un sistema politico, ve lo ricordo, che era fondato sul suffraggio ristretto, per cui la legge del 1882, che aveva allargato il suffraggio, aveva portato il corpo elettorale al 6,9, quindi circa 2 milioni di elettori. Quindi voi pensate quanti elettori potevano votare in una città come Sciacca o anche in una città come Gorizia? 100? 120 persone? Quindi tenete presente poi quant'è la capacità del governo a controllare i candidati che sono più o meno filoministeriali attraverso i prefetti, attraverso anche le forze dell'ordine e segnatamente i carabinieri. Quindi è chiaro che tutto quel sistema che si basava sul collegio elettorale ristretto, fondato sul censo e sul grado di istruzione e sulla logica trasformista, ecco, nel 19 tutto questo non è più riproponibile e la classe dirigente liberale affronta tutto questo in assenza di una struttura di partito moderna, perché la classe dirigente liberale non riuscirà mai a creare un partito moderno, affronta invece della nascere di due partiti di massa, proprio nel 1919, che sono il PSI che era nato tra 94, 92, 94, 1891, 1894 e il partito popolare italiano di Dodo Vigi Sturzio che va a incanalare tutto il voto cattolico. In tutto questo francente è chiudo, così do la palla al professore De Moal, è chiaro che il ruolo poi della monarchia in questa fase di transizione è un ruolo ovviamente decisivo perché era sempre stato decisivo dal 1848 in poi, lo era stato durante la Prima Guerra Mondiale e lo sarà poi in questo frangente del primo dopoguerra. Professor Le Moal? Funziona, sì, grazie. Prima di parlare vorrei scusarmi di imparare con il mio brutto italiano e il mio terribile accento francese, fortunatamente ho l'aiuto delle interprete. Allora, vorrei dire che per me il fascismo non può non essere un movimento antiparlamentare perché è un movimento che nega il ruolo del Parlamento nella risoluzione dei problemi politici. da prima i suoi radici socialisti nell'estrema sinistra di cui viene Mussolini rifiuta il gioco parlamentare e liberale. conosciamo tutti l'ostilità del fascismo al comunismo, al bolcevismo, ma non dobbiamo mai dimenticare l'ostilità del fascismo al liberalismo, al gioco parlamentare. lo squadrismo è la negazione del gioco parlamentare, delle istituzioni parlamentare, perché il squadrismo vuole risolvere i problemi con la violenza e non nell'aula del Parlamento demotecitorio. il sistema liberale, dopo la grande guerra, è infatti un sistema debole in crisi e il re Vittorio Emanuele III, io penso che considera che il sistema non funziona più e che si deve forse passare a un'altra forma di politica. il re non è mai fascista e forse all'inizio ha considerato il fascismo forse come un tempo provvisorio per ristabilire l'ordine politico e sociale in Italia. E forse la grande guerra ha avuto nella mente del re un'influenza, che penso, determinante. Vittorio Emanuele ha amato questa vita sul fronte con i soldati e il re non ha mai amato la vita politica, i politici, i suoi presidenti del Consiglio e fa il suo dovere nella scelta dei presidenti del Consiglio, ma per lui è un po' un accroce. E poi, dopo la guerra, considera che il sistema è arrivato a un punto di non funzionamento. E dunque, davanti alla crisi del squadrismo, davanti alle violenze del squadrismo, lui lascia i governi governare, il fatto di trovare la soluzione parlamentare, ma nessuno, né Gigliotti, né Nitti, hanno riusciuto a trovare la soluzione. E poi, davanti alla crisi del 22, della marcia su Roma, il re era pronto, in un primo tempo, a difendere lo Stato, di forse usare la forza armata per proteggere lo Stato. Ma poi, davanti alla debolezza del governo facta, il re ha cambiato di giudizio e ha fatto l'analisi di dare il potere a Mussolini, soprattutto per me, per evitare la guerra civile. Vittorio Emanuele III era un uomo che era ossessionato dal pericolo della guerra civile, dall'ascesa sul trono. Ha passato la sua vita, il suo regno, a tentare di evitare la guerra civile. Per me è la prima ragione della posizione del re. Poi ha paura di essere detronizzato dai fascisti per il suo cugino, il duca d'Aosta, che era vicino ai fascisti. E poi la terza ragione della decisione del re si trova nella convinzione che quando c'è una forza sovversiva è meglio di farla entrare nel governo, di farla pacitipare al governo per adurla con il potere. Lui addolcirla con il potere e l'aveva fatto con i socialisti moderati, riformisti prima la grande guerra e dunque forse ha pensato che sarà la stessa cosa con i fascisti di Mussolini. ma con i fascisti di Mussolini era un problema differente perché Mussolini era un rivoluzionario sempre per me è sempre stato un rivoluzionario all'epoca del socialismo all'epoca del fascismo Mussolini è un repubblicano di convinzione sempre ma è soprattutto un politico un uomo che fa politica molto abile poco più abile dei suoi compagni che sono più come dire puritani repubblicani e lui sa che in Italia non è possibile di abolire la monarchia non è possibile di avere il potere senza la corona perché nel sistema nello statuto la corona ha ampi poteri la corona non è soltanto un simbolo ma ha poteri l'articolo 5 6 65 che dà a re ampi poteri e quindi lui sa che il fascismo deve accettare la monarchia e questo è il senso del suo discorso prima la marcia su Roma a Udine nel quale accetta le istituzioni monarchie e di fatti apre così la strada verso il potere perché il re è rassicurato di non avere davanti a lui una forza repubblicana e durante tutto il ventennio Mussolini gioca accetta accetta il gioco del politico con la monarchia ma potremo forse discorsene dopo ecco aggiungo solo due cose questo clima di violenza in cui Mussolini riesce a muoversi molto bene per noi italiani molto spesso almeno della manualistica scolastica risulta schiacciato dalla marcia su Roma ma la paura del monarca in qualche modo è spiegabile e articolata si parte qui vicino con l'impresa di fiume che poi viene riportata in un alvero ma è una crisi internazionale e molto forte e a un certo punto è se si vuole un gesto non violento però Guido Keller tira un pitale sul tetto del Parlamento quando si iniziano a tirare i pitali sul tetto del Parlamento il monarca inizia ad avere paura c'è una cosa di cui non si parla quasi mai è la rivolta ad Ancona ma c'è un reparto militare intero che si rivolta e a un certo punto lo fanno smettere con le cannonate delle navi il clima in cui si sviluppa questa faccenda è questo in Italia nonostante sia un paese vincitore un pezzo di paese inizia a dire molto spesso facciamo la Russia l'espressione usata in quegli anni lì è facciamo la Russia si sviluppano gli arditi del popolo si sviluppa questa violenza fascista molto forte che molto spesso noi italiani abbiamo comunque derubricato al bastone l'olio di ricino invito tutti ad andarsi a leggere i diari di Balbo sul 22 che sono stati appena ripubblicati dalla leg altro che è olio di ricino sono pistolettate sono intere campagne che vengono devastate e bruciate e questo spiega la crisi come spiegava il professore Mussolini d'altro canto che è molto furbo e molto attento a rassicurare la monarchia e fa anche tutta una serie di discorsi che rassicurano l'apparato militare e creano un punto di contatto quindi quando il re non schiera le truppe ha sotto sotto anche il dubbio che un po' di generali gli manifestano ma le schieriamo e cosa succede e poi in un certo senso c'è il famoso discorso e qui passo la parola a Ungari sul bivacco di manipoli in cui Mussolini rassicura su quello che non ha fatto e il percorso lì poi però prende pian piano un'altra piega ancora sì io volevo solo tornare su un aspetto che è stato evocato sia da professore Lemoazia da Sacchi cioè l'antiparlamentarismo che poi vediamo ancora oggi se noi oggi andiamo a vedere la vicenda del 5 Stelle si basa su questo l'antiparlamentarismo l'antipolitica è un tema che ricorre spesso nella storia di questo paese cioè già a partire dagli anni 80 dell'800 per esempio nel romanzo parlamentare ma non solo ma anche nel dibattito politico emergono tutta una serie di testi che vanno a criticare la degenerazione del Parlamento cioè quindi il Parlamento e quindi anche certe forze anche la città di Roma che viene considerata come luogo di degrado politico perché è sede del Parlamento cioè questa parte di antiparlamentarismo e di critica nei confronti dei partiti perché il partito viene inteso dalla cultura liberale come una fazione e quindi non il tutto rappresentato dallo Stato in realtà è un tema di lungo periodo dal punto di vista nella cultura politica e giuridica perché molti di questi esponenti che sono illustri anche lo stesso Vittorio Emanuele Orlando ma tantissimi esponenti della cultura liberale dell'800 consideravano negativamente il ruolo del partito e sul finale dell'800 prima lo ricordavo durante la crisi di fine secolo la tematica antiparlamentare è fortissima ed è una tematica che riesplode poi nel 14-15 cioè se noi andiamo a leggere quello che si scrive sui giornali nel 14-15 sul Parlamento che era naturalista e che non voleva la guerra sono accuse fortissime che a volte coinvolgono anche il re cioè mettiamo in discussione la monarchia se decide di non entrare in guerra anche da parte di una componente politica come quella dei nazionalisti che aveva una visione molto vicina con esponenti molto vicini a casa reale quindi questo è un dato sul quale volevo ritornare e secondo me riprendendo quello che stava dicendo Sacchi per aggiungere una cosa a quello che aveva detto prima il professore Lemoala il quarto elemento è il problema del controllo dell'esercito del 22 cioè io sono d'accordo su questo perché la vicenda di fiume che ricordava prima Sacchi è una vicenda che non può capitare senza che il re lo sappia cioè su questo io sono sicuro perché i legionari si concentrano perché l'esercito lo sapeva cioè il problema è che probabilmente il re pensa ad una riedizione caribaldina di quella del 60 del 62 del 67 il problema quando si accorge che non sono i volontari che insorgono che non sono volontari quelli che insorgono a fiume ma sono reparti dell'esercito che si associano alla marcia su fiume e lui si rende conto e vi ricordo che questa è la prima e vera unica forma di diserzione militare che questo paese ha conosciuto dal 1861 fiume in cui i reparti dell'esercito non rispondono più al comando del governo non c'è mai più stato una situazione del genere il re si spaventa perché la monarchia è sempre poggiata sul controllo lo ricordava prima il professor Lemoy l'articolo 5 sul controllo dell'esercito tant'è vi ricordo che quando c'è la sfilata del 30 novembre scusate del 30 ottobre a Roma il re i fascisti il 28 c'è la marcia ma poi c'è la sfilata del 30 novembre per i fascisti che passano per le strade di Roma il re si affaccia dal balcone del piazzo del Quirinale ma dietro di lui c'è Diaz e Taonde Revelle ossia lui si fa vedere alle spalle con il ministro della guerra il ministro della marina a dimostrazione del fatto di dire comunque le forze armate sono il baluardo della monarchia e sono vedele al re perché il problema del 22 c'è tutto c'è il problema del Duga e il Duga trama la realtà adesso sono stati recuperati i diari del Duga d'Aosta e a breve uscirà qualcosa su questo ma su questo passaggio è vero che c'è una trattativa tra il Duga d'Aosta e i fascisti per una sostituzione del trono quindi quello era un pericolo sentito da Vittorio Madale III e c'è il problema del controllo dell'esercito e quello che diceva questo lo dico per chiudere alcuni punti rimasti in sospeso quello che diceva prima Sacchi sulle vicende sull'errore di interpretazione del fascismo da parte del Re che è lo stesso che fa Giuritti nel 21 quello di inserirli nei blocchi nazionali è un errore che compie gran parte della classe dirigente liberale cioè pensare a includere il fascismo all'interno dell'area governativa per ristabilire l'ordine del paese perché l'ordine del paese non ce lo ricordiamo perché poi gli eventi storici a volte gli storici ultimamente cercano un po' di confondere le acque devo dire a volte in maniera pretestuosa gli eventi storici hanno una dura cronologia quindi prima del biegno nero che è quello del 21-22 in realtà c'è un biegno rosso che è quello del 19-20 in cui si cerca di fare come in Russia e al di là della responsabilità o meno diretta del partito socialista questo lo ricorda Gaetano Salvemini ma anche Angelo Tasca in realtà c'è un tentativo di insurrezionare all'interno di questo paese più o meno spontaneo per instaurare un regime che era quello che stavano realizzando i bolshevichi in Russia e ci sono una serie di occupazioni delle terre occupazioni delle fabbriche violenze diffuse all'interno delle campagne quindi non è che si può slegare la successiva reazione del fascismo e anche la successiva reazione della borghesia e dei militari che danno il consenso al fascismo slegandolo dalla cronologia degli eventi come se se facciamo un discorso sulla violenza tutte le società europee sono violente dopo la prima guerra mondiale perché la guerra porta questo dopo cinque anni di guerra insomma non è che la gente torna a casa dopo che è stata abituata a uccidere a massacrare la gente in trincea come facevano gli austrici con le mazze di ferro non è che torna a casa insomma si ritorna alla normalità nel giro di poco tempo quindi la violenza è un tema diffuso però ecco slegare il biegno rosso dalla fase successiva di ascesa al potere del fascismo questo a mio avviso è un errore di interpretazione storiografica per capire come poi si sono sviluppate le cose e sicuramente anche il re fa un errore di valutazione sul fascismo perché pensa che sia un regime che sia riconducibile all'interno dell'area liberale quindi interpreta male ma questo lo fa a Croce lo fa a Inaudi lo fa a Giolitti lo fa a Vittorio Emanuele Orlando lo fa lo stesso Sonnino cioè lo fa a Salandra lo fanno tutti quegli esponenti dell'elite della classe dirigente liberale dell'epoca che interpreta male il fenomeno fascista sono pochi quelli che da subito criticano il regime sono veramente pochi Salvemini Amendola ma insomma sono una componente minoritaria che vedono subito nel fascismo un pericolo ma l'establishment liberale compresa la monarchia pensa a utilizzarlo in funzione antisocialista e poi per rifarlo rientrare all'interno del sistema politico e in realtà la svolta vera e chiudo e mi ricollego a quello che con la frase con la quale ha chiuso Matteo Sacchi cioè la svolta vera non è nel 22 io continuo a ripetere nonostante ci siano illustri storici che fissano al 22 la nascita della dittatura fascista nel 22 c'è un governo di coalizione in cui ci sono militari scelti dal sovrano in cui ci sono esponenti cattolici c'è un sottosegretario gronchi dentro il governo poi i popolari riterranno la fiducia al governo Mussolini ci sono esponenti liberali ci sono esponenti della democrazia del deputato di Cesaro quindi è un governo molto composito la frattura vera avviene c'è un tema che verrà trattato oggi proprio in questa sala avviene a partire dal 24 cioè a partire dal delitto Matteotti e soprattutto a partire dal 25 al 26 famoso discorso del bivacco in cui non il discorso del bivacco il discorso del gennaio 25 in cui Mussolini sia a prescindere se avesse lui ordinato l'uccisione di Matteotti è una cosa sulla quale io questo tipo di storia dal buco della serratura a me mi interessa poco nel gennaio 25 però lui si assume tutta la responsabilità dell'evento quindi comunque avesse deciso solo di rapirlo gli avesse detto di ucciderlo meno però alla fine nel momento in cui si assume la responsabilità dell'evento si è assunto la responsabilità dell'omicidio Matteotti ed è a quel punto che in realtà davvero si sta ora la dittatura perché lo statuto che aveva garantito una cornice di libertà liberale e costituzionale al paese a partire dal 1848 lo ricordo l'unico lo ricordo anche ai miei studenti spesso neoborbonici l'unico paese che mantiene uno statuto liberale e costituzionale è il regno di Sardegna in questo paese dopo la vicenda del 48-49 ebbene quelle libertà costituzionali libertà religiosa libertà di stampa libertà di associazione partitica viene cambiato a partire dal 25-26 da quel momento in poi a mio avviso proprio perché bisogna stare attenti anche a questi elementi di storia costituzionale di storia delle istituzioni perché non sono secondarie a quel punto si può parlare di una dittatura fascista ma certo non è il 22 certo non è il 23 è un passaggio cruciale che è successivo proprio perché solo da quel momento Mussolini tant'è che e chiudo davvero il cambiamento del nome da primo ministro a capo del governo per cui il duce diventa capo del governo avverrà solamente nel dicembre del 1925 ossia nel momento in cui cambia la figura del primo ministro e quindi il vulnus all'interno dello statuto del Bertino e quindi all'interno dell'edificio liberale del paese avviene solamente a quella dada e si apre poi tutta una fase della diarchia sulla quale il professor Lemoal molto ha scritto allora il regime il regime fascista è particolare perché il dittatore non è capo dello stato è la differenza con la Germania dal 34 Hitler è cancelliere e capo dello stato nell'unione sovietica il compagno Stalin è il capo del partito che governa il sistema sovietico in Italia c'è il re che è il capo dell'estato e dunque è un limite al potere totalitario per me molto forte è vero che il re ha lasciato Mussolini governare senza impedirli fino al 43 è vero non c'è intervento dal re contro la politica di Mussolini sulle grandi decisioni del governo ma il re dalla sua presenza pone una limite al potere di Mussolini di Mussolini il re ha dato il potere a Mussolini ma li ha tolto alla fine impossibile in Germania impossibile in Unione Sovietica la monarchia ha giocato il suo ruolo e il ruolo della monarchia è di proteggere lo stato e Vittorio Emanuele terzo con le sue limite vero ma l'ha fatto ha fatto il ruolo ha assunto il ruolo della monarchia il re sempre chiama Mussolini presidente raramente raramente duce il re parla sempre del capo del mio governo una volta alla settimana il duce va al chirinale al palato reale portare i documenti da firmare dal re non possiamo immaginare questo in Germania una Germania nazista il re è il capo dell'esercito molto importante sulla preservazione dell'influenza fascista sull'esercito e la marina infatti il fascismo ha ucciso il sistema parlamentare il liberalismo il potere legislativo al beneficio del potere esecutivo lui infatti ma lui può governare ma sempre Mussolini deve avere il consenso del re per le grandi decisioni del suo governo lui mantiene i discorsi del trono dunque il quadro istituzionale cambia c'è una rottura veramente nel sistema istituzionale italiano ma Mussolini deve conservare la monarchia io penso che Mussolini aspetta la morte di Vittorio Emanuele III per passare alla Repubblica e dunque aveva preparato un dossier di informazione sul principe di Piemonte sull'immers i costumi i costumi i costumi i costumi del principe sulla sessualità del principe di Piemonte che avrebbe utilizzato penso per abolire la monarchia e due cose hanno salvato la monarchia la buona salute di Vittorio Emanuele III e la seconda guerra mondiale che è stato provocato dai tedeschi più presto che previsto da Mussolini e dunque non era possibile di cambiare il regime con la guerra ma se il fascismo aveva vinto la guerra sono sicuro che Mussolini sarebbe passato alla Repubblica ci sono pressioni dalla Germania dai nazisti per gettare la monarchia e di fare una vera Repubblica totalitaria ma alla fine della storia è stata la monarchia che ha vinto il confronto con il fascismo ecco come tradizione poi vi lasciamo lo spazio anche a qualche domanda volevo chiedere una cosa rapidissima ai due professori Mussolini ha una caratteristica rivoluzionaria molto forte lei nei suoi libri la inserisce in un percorso giacobino che che arriva fin lì sicuramente questa cosa c'è ma effettivamente Mussolini ha anche una capacità una volta giunto al potere di snaturare in qualche modo quello che è un partito fortemente rivoluzionario e movimentista e adattarlo a a questo sistema misto in maniera molto strategica perché riesce pian pianino a espandersi nei gangli del patere e normalizzare un partito che non era automatico normalizzare volevo proprio in due battute capire come ci riesce rapidissimamente l'iniziale normalizzazione avviene proprio con la costituzionalizzazione per esempio della milizia della milizia fascista all'interno della milizia volontaria della sicurezza nazionale che è una cosa sulla quale spinge molto il re per regolamentare le squadre fasciste e c'è tutto un percorso di diciamo fondamentalmente anche in politica estera quindi lasciando da parte l'instaurazione di un regime liberticida dittatoriale all'interno in realtà una grande cesura con la precedente classe dirigente liberale fino alla metà degli anni 30 non c'è cioè se noi dobbiamo vedere un salto ma lo diranno altri interpreti in queste giornate però se vogliamo vedere un salto nel fascismo in questo suo progetto di carattere totalitario e quindi poi di abolizione della monarchia a mio avviso insomma la data è quella del 35-36 cioè la guerra di Etiopia che lascia lancia questa accelerazione nel progetto Mussoliniano e quindi poi tutta la polemica antiborghese che viene lanciata l'idea del sistema corporativo che effettivamente è un uscire fuori del regime costituzionale liberale ottocentesco il sistema corporativo quindi è vero che tiene a bada e che in qualche maniera a lungo riesce a tenere a bada alcune componenti di quel fascismo movimento che sarebbe poi esploso per esempio nell'esperienza della Repubblica Sociale Italiana però a partire dal 35-36 questo progetto di fuoriuscita dal liberalismo nel suo complesso quindi anche da quella cornice dello Stato quindi un Senato proprio la Camera Corporativa la Camera dei Fasci delle Corporazioni in realtà a partire dal 35-36 è abbastanza evidente e quindi quello sono d'accordo con il professor Lemoal quello è la visaglia di una volontà antimonarchica tenete presente che già dal 1923 viene nominata vengono nominate una serie di commissioni la commissione dei Soloni che dovevano valutare una riforma costituzionale dello Statuto Albertino cosa che non riusciranno mai a fare quindi c'è un potere del re che in qualche maniera blocca queste cose però poi lo Stato Corporativo provano a farla alla fine certo siamo nel 38 siamo ormai alla vigilia 38-39 siamo alla vigilia della guerra quindi su questo anche qua la guerra effettivamente salva quell'edificio le puoi ripetere la domanda dicevo che Mussolini parte da una spinta fortemente rivoluzionaria di quella tradizione giacobina che lei nel suo libro ha evidenziato che però per lungo tempo riesce poi a imbrigliare il partito per procedere lentamente in queste riforme non è una cosa scontata riuscire a fermare un movimento così violento e in qualche modo istituzionalizzarlo volevo chiederle come ci riesce penso che Mussolini come l'ho detto è un politicante che sa manovrare ha preso nel partito socialista italiano a manovrare e ha un vero progetto di trasformazione della società italiana del paese delle istituzioni ma lui sa che ha avuto il potere con un'alleanza con la monarchia con l'elite industriale del paese con la chiesa anche che sono i suoi alleati e nello stesso tempo contro poteri per lui e lui deve sempre fare attenzione a non perdere questi sostegni per il suo potere e dunque va infatti lentamente tappa dopo tappa fino al suo progetto svuota il sistema istituzionale italiano del suo potere in collaborazione non in collaborazione ma mantenendo il re nel sistema aspettando la buona occasione di passare alla repubblica e per me la vera rottura istituzionale è la repubblica di Sallo perché abbiamo nella repubblica di Sallo il vero fascismo il fascismo dell'inizio degli anni venti fascismo di sinistra giacobino repubblicano totalitario debarazzato liberato della necessità di comporre con la borghesia con la moracchia con la chiesa e per me il vero fascismo è quello quelli degli due ultimi anni a Sallo abbiamo un Mussolini indebolito fisicamente intellettualemente ma liberato veramente di tutti i compromissi che ha dovuto fare durante il ventennio per poter realizzare il suo progetto rivoluzionario c'è spazio per una domanda vostra se volete venga che le passo il microfono venga qui buongiorno volevo chiedere al professore Lemoal quali sono i paralleli tra Mussolini e il maréchal Pétain domanda molto interessante la ringrazio allora Pétain non ha alcun interesse né admirazione per il Duce e penso che è la stessa cosa per il Duce tuttavia a Vichy c'è un uomo Laval il numero due del regime l'uomo della collaborazione e lui è differente perché lui viene dall'estrema sinistra come Mussolini lui ha sempre pensato che la Francia deve fare un' alleanza con l'Italia fascista necessaria come contropotere di fronte alla Germania e durante la guerra Laval ha tentato molte volte di fare aperture in direzione di Mussolini e Mussolini non ha mai risposto positivamente a queste domande perché Mussolini vuole una Francia vinta e veramente indebolita indebolita perché Mussolini pensa a Nizia la Corsica gli Alpi la Tunisia e dunque lui vuole prendere l'impero coloniale francese e dunque per Mussolini non può essere collaborazione con il regime di Petain e all'inizio del regime di Vichy Mussolini ha molto paura della collaborazione tra il Marshal Petain con i tedeschi perché ha paura di questa intesa con i tedeschi che potrebbe essere pagata con il mentimento dell'impero coloniale francese quindi Laval si fa illusioni ma questo è Laval si fa sempre illusioni la Francia di Vichy non interessa Mussolini veramente no e anche con i nazisti sempre Laval vive in un mondo parallelo Buongiorno volevo chiedere soprattutto sto fermandomi sui primi anni del governo fascista e quindi i cosiddetti anni del governo di coalizione spesso quello è il periodo che viene definito come la fase liberale del governo fascista io volevo chiedere secondo voi i membri del governo fascista i membri fascisti all'interno di questo governo entrano con l'idea di negare completamente i principi del liberalismo oppure con l'idea di fare un nuovo liberalismo partendo dal presupposto che stiamo parlando di persone che comunque pur professandosi fasciste volente o nolente vengono da una formazione e da una esperienza all'interno del mondo liberale del periodo liberale non so se sono stato chiaro grazie la domanda è un molto difficile diciamo che faccio un esempio Benedetto Benedetto Croce viene giuritti non Benedetto Croce ma anche Croce viene intervistato dall'ambasciatore inglese Baganam credo che fosse o era cambiato nel 23 dopo l'approvazione della legge acerbo e tutte e due dicono noi siamo contentissimi che si ripristini il regime maggioritario perché il proporzionale che è stato adottato nel 1919 è quello che ha sconquassato la classe dirigente liberale e quindi noi siamo assolutamente favorevoli al ripristino di un sistema elettorale maggioritario quindi dico questo perché ancora nel 23 quindi ancora sull'approvazione di una legge che poi la storiografia in passato ha indicato come una legge già che introduceva elementi della dittatura in realtà io starei un po' attento perché poi acerbo non era proprio un esponente fascista ma viene da un'altra tradizione e in realtà è una legge maggioritaria certo con un premio di maggioranza spropositato certo ci saranno le violenze alle elezioni però se uno poi va a vedere le elezioni del 24 sempre da parte degli inglesi le leggono in una maniera questo me lo ricordo perché le ricerche dicevamo col professor Lemoad l'ambasciatore inglese dice sì è vero sicuramente le violenze politiche ci sono state in occasione dell'elezione del 24 ma le pressioni politiche in Italia ci sono sempre state in occasione delle elezioni e il successo che ha ottenuto il fascismo alle elezioni è talmente ampio che non può essere giustificato solamente dalle violenze quindi questo per dire che poi in realtà il consenso verso il fascismo non è solamente il consenso in Etiopia dopo l'Etiopia cioè il consenso al fascismo è un consenso che c'è già sin da subito quindi poi per rispondere specificatamente alla domanda non lo so francamente quello che pensavano è chiaro che all'inizio molti sono esponenti del mondo liberale che vi aderiscono e molti liberali poi confluiranno all'interno del fascismo però dipende pure che tipo di liberali sono per esempio una figura come quella di Carlo del Croix è uno che si ispira al fascismo e all'esercito ovviamente però per lui il dato fondamentale è il richiamo monarchico lo stesso sarà Federzoni che poi durante il fascismo ha tutta una serie di incarichi ma Federzoni poi è uno degli elementi critici proprio a partire da quando inizia quella polemica antiborghese e quella volontà di trasformare lo Stato in senso oserei dire in senso populista diciamo peronista forse questo si potrebbe dire e quindi è un mondo liberale che spesso aderisce anche per il legame con la monarchia che io non lo sottovaluterei mai cioè questo tema oggi è durato un'ora ma insomma il tema del rapporto della monarchia anche all'interno del ventennio la diarchia io starei attento sul fatto che il potere viene così compresso della corona sì viene compresso ma il sovrano mantiene dei contropoteri prima questo lo diceva ricordo che poi il 25 luglio alla fine è il sovrano che prende la palla al balzo dell'ordine non è un ordine di sfiducia ma insomma dell'ordine del giorno grandi e mette a capo guarda caso chi un militare quindi questa fascistizzazione dell'esercito era riuscita fino a un certo punto quindi però quello è un tema importante che se è una pista di ricerca sua personale io andrei a individuare delle indagini un po' prosopografiche sui vari individui che sono interessanti perché molti Vittorio Monero Orlando per esempio alla fine nel 24 fa una lista a parte nella sua Palermo e non confluisce nel listone perché comincia a prendere le distanze dal fascismo comincia un po' a distanziarsi perché il 24 è cruciale anche su questo perché una componente del liberalismo che va aderita al fascismo si tira indietro per le vicende politiche e poi dopo Matteotti e un'altra parte alla fine sceglie Mussolini perché l'alternativa non c'è cioè quando noi parliamo della vicenda del 24-25 ferme restando indubbiamente alcune responsabilità del sovrano che ci sono però il sovrano quando si dice non vuole fare il salto nel buio io non conosco istituzioni che istituzioni soprattutto le istituzioni che si suicidano non ho mai conosciuto che ne so un ministero che propone di autosciogliersi ecco allora la monarchia è un'istituzione quindi poi nel 24 dimette Mussolini va benissimo ma il governo con chi lo fa? con i repubblicani? con i socialisti massimalisti? col partito comunista d'Italia? cioè fa un governo con i partiti che volevano l'abolizione della monarchia ora si può chiedere tutta un'istituzione tranne quella di suicidarsi ora francamente questo lo dico perché a volte si fanno discorsi ah no perché il sovrano a Mendola non ha ascoltato a Mendola tutto a posto però poi uno deve fare pure i discorsi dalla parte di quello che doveva suicidarsi e a volte forse uno non ha così il desiderio di suicidarci ecco non so avevamo anche una domanda da parte della signora perché poi dobbiamo liberare mi sa allora lei aveva parlato alla figura del Duca d'Aosta e per quel che sono anche i ricordi della mia famiglia il Duca d'Aosta era antifascista e quando venne a Trieste mi dicevano appunto ignorò tutte le autorità cittadine che erano fasciste compreso il Modestà e andò invece a salutare il vescovo di Trieste Monsignor Fogar che era invece antifascista riconoscendo in lui l'unica autorità Monsignor Fogar per il suo antifascismo è stato destituito dalla carica di vescovo e appunto e il Duca d'Aosta fu mandato in Africa come punizione allora sono d'accordo con lei penso che la famiglia a Osta non è fascista penso che nessuno nella famiglia reale può essere detto fascista nel senso vero della parola allora penso che nell'Ia a Osta forse ci sono forse segrete ambizioni 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 e soprattutto penso che è il gioco di Mussolini di approfondire le fosì le fratture le fosì le fratture la rottura la rottura di approfondire la differenza la diffidenza tra la famiglia reale di Vittorio Emanuele III e Elia Osta penso che Elia Osta erano sono una carta nel gioco di Mussolini forse per fare cantare si dice in italiano per cantare il re per fare una minaccia sul re di cambiare di ramo se il re o il principe di Piemonte non giocano il ruolo nel quadro istituzionale del fascismo penso che soprattutto è il gioco di Mussolini si l'ambizione c'era di succedere al trono l'ambizione c'era un po' degli Aosta di succedere al trono il ramo cadetto Mussolini gioca tutte le carte disponibili quando le ha per mettere in condizione di difficoltà la monarchia poi qua chiudiamo davvero ad esempio dopo la guerra di Etiopia si crea una bella carica onorifica maresciallo d'Italia che non dovrebbe voler dire niente ma maresciallo d'Italia suona un po' come capo delle forze armate allora il re si risente e i marescialli d'Italia diventano due cioè questa carta Mussolini la gioca ovunque la può trovare e chiaramente se c'è un ramo cadetto della famiglia far leva su questa cosa è uno strumento politico indispensabile e su questo vi ringraziamo per essere venuti così presto la mattina e averci tenuti compagnia grazie mille grazie grazie a tutti grazie a tutti